Qual è la sicurezza di virtualizzazione e del cloud computing? Questo perché oltre all'aspetto sicurezza vera e propria, quindi protezione dei dati, protezione dei sistemi, protezione degli ambienti virtuali, l'impatto che ha questa voce in termini di costo sulla gestione dell'infrastruttura è molto elevato. Noi sappiamo che tutte le aziende si stanno muovendo in ambiente virtualizzazione per la cost reduction e la consolidation degli ambienti, quindi per andare a ridurre quello che sono i costi di gestione delle infrastrutture, definiamoli tradizionali, dei nostri sistemi, dei nostri data center. Con il muoversi verso l'ambiente virtuale uno dei motivi maggiori è appunto il discorso di andare a risparmiare risorse, di andare a risparmiare sia in termini di spazio risorse, sia in termini di energia elettrica consumi, sia in termini di raffreddamento che è una delle voci principali che spingono le aziende a muoversi in questa ottica. Purtroppo non tutti si rendono conto che uno degli aspetti fondamentali, una delle voci fondamentali in questi termini è il discorso sicurezza, la messa in sicurezza di questi ambienti virtuali. Approcciare oggi un ambiente virtuale con prodotti tradizionali ha dei costi che possono impattare fino al 40-60% del costo totale, mentre approcciare quindi in fase progettuale iniziale il discorso sicurezza in modo corretto con dei prodotti specifici tipo il prodotto Deep Security che è un prodotto di sicurezza studiato ed ingegnerizzato per ambienti virtuali che permette una sicurezza cosiddetta agentless che appunto va a ridurre notevolmente l'impatto sia a livello di performance sia a livello dei costi su quello che è la fase, su quello che è gli ambienti virtuali che le aziende vanno a mettere in piedi o a progettare oggi. Quindi per un corretto progetto a livello di virtualizzazione o del viaggio come viene definito oggi verso il cloud non dimentichiamoci che bisogna utilizzare un prodotto studiato e ad hoc per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti virtuali e in questo 3 Micro con il suo prodotto Deep Security può aiutare le aziende a percorrere questo viaggio in maniera tranquillo e avendo quello che viene definito il Return of Investment soddisfacente.